Questo è l'ultimo porcino della stagione che ovviamente ha trovato Bruna, io comunque l'ho trovato ieri vero? Ecco siamo al caminetto, queste sono le ultime ore che noi rimaniamo qui in montagna, tra poco avremo la nostra bella Livorno con il nostro meraviglioso mare. Ecco il porcino, il camionetto è acceso, siamo a 2-3 gradi sopra zero, abbiamo addirittura la miscia che si sta stiracchiando, vi saluto, arrivederci all'anno prossimo.